Sono 19 i comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che saranno interessati dalla prossima tornata elettorale 2017. Mancano circa tre mesi infatti alle prossime elezioni che vedranno i cittadini di diversi comuni del territorio cilentano andare alle urne salvo possibili variazioni. Non si conosce ancora la data precisa delle prossime amministrative. Sarà il consiglio dei ministri a stabilirla su proposta del ministro dell'interno. Al vaio ci sarebbero due domeniche del mese di giugno, il 4 e l'11, ma non è esclusa la possibilità anche del giorno 18. Tra i comuni interessati dalle prossime elezioni amministrative, tre sono quelli che non hanno terminato i 5 anni di governo. Si tratta di Rutino, Magliano-Vetere e Buonabitacolo. Particolare attenzione viene posta ai comuni più popolati come Agropoli, Capaccio-Pestum, Camerota e Sapri. I 19 comuni che andranno al voto sono Agropoli, Capaccio-Pestum, Prignano-Cilento, Magliano-Vetere, Monte Corice, Piaggine, Laurito, Camerota, Stella-Cilento, Sapri, Stio, Sacco, Rutino, Pisciotta, Roscigno, Buonabitacolo, Centola, Buccino e Alfano.